La sicurezza è importante per chi si occupa ogni giorno della casa e della famiglia. La casa, infatti, è tra i luoghi dove si verifica il maggior numero di infortuni e troppe cose da fare, troppo poco tempo a disposizione, possono abbassare il livello di attenzione. Se hai tra i 18 e i 65 anni e ti occupi a tempo pieno della tua casa e della tua famiglia, assicurarti con Inail è un obbligo. Con Inail la sicurezza costa davvero poco, meno di 13 euro l'anno. Per assicurarti, utilizza il bollettino postale o paga online su www.inail.it. Se hai un reddito basso, l'assicurazione è gratuita e basta un'autocertificazione. L'assicurazione obbligatoria Inail ti tutela dagli infortuni gravi che possono verificarsi nell'ambiente in apparenza più sicuro. Per rinnovare la tua assicurazione Inail hai tempo fino al 31 gennaio. Pensa alla tua sicurezza. È importante. Un piccolo gesto di grande responsabilità. Per saperne di più, chiama al numero gratuito 803-164 o vai sul sito Inail.it o rivolgiti ad una sede Inail. Inail. A lavoro con te.